Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In Fipilico denuncita alla Strassigna, provenendo da Firenze. In A1 verso Roma rallentamenti per incidente tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano. A Firenze, cambiata la viabilità in Piazza della Libertà e Via Lorenzo il Magnifico, i provvedimenti rimarranno in vigore anche una volta realizzata la nuova linea della tramvia. Il 7 gennaio si aprirà una nuova fase per quanto riguarda l'organizzazione del trasporto pubblico in vista del rientro a scuola degli studenti. Presto, aggiornamenti sui canali social di Muoversi in Toscana. Si ricorda che il numero verde per gli utenti del TPL è 857 05 30. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!